La parola chiave, partiti. Variabile dall'esterno, Sand of Sunshine all'interno, poi Baton Romain e Principe Igor. I quattro procedono al Romanz de Te che corre dietro e procede a sua volta Antilia che galoppa all'interno di Artinghelli nella prima parte del percorso. Variabile senza strafare, Sand of Sunshine all'interno, Principe Igor, terzo di fuori, quarto in corda, Baton Romain che precede un terzetto capeggiato da Artinghelli, da Antilia, a largo iArmoni, a metà della retta di fronte, sempre variabile in vantaggio, sempre su Sand of Sunshine, Principe Igor, Baton Romain, Romanz de Te, iArmoni, Antilia e Artinghelli, posizioni abbastanza statiche in questa parte del percorso quando si approccia all'ultima curva in coda Arcor. Variabile Principe Igor, Sand of Sunshine, quando si sta per entrare addirittura, Sand segue le mosse di variabile, all'esterno Principe Igor, in corda, Romanz de Te, Artinghelli, di fuori iArmoni che cerca di anticipare Antilia che viene via a mezzo alla pista. Variabile prova l'allungo, in seguito da Sand of Sunshine, Romanz de Te, a largo Antilia, poi Principe Igor e Artinghelli, con variabile in seguito da Sand of Sunshine, Antilia, Romanz de Te, per Artinghelli, Sand of Sunshine, attacca variabile, a 200 dal palo, Sand of Sunshine, attacca variabile che prova ancora la reazione, ci prova al suo esterno, Sand of Sunshine, variabile contro Sand of Sunshine, due vicini sul palo, forza nell'ordine, terzo Romanz de Te. Apertura con un'idea di sorpresa tra variabile e Sand of Sunshine, con variabile all'interno e Sand of Sunshine a largo, nonostante il tempo di galoppo a favore di Sand of Sunshine. questa ripresa è abbastanza diversa da questa, vedete, il tempo di galoppo, diamo due frame più indietro, qui siamo dopo il palo, però vedete, ancora un frame indietro per favore, molto stretta da questa inquadratura, qui forse siamo ancora un filino prima, però è molto molto stretta ed era abbastanza percepibile dall'altra ripresa. 9-2 in foto, terzo è probabilmente Romanz de Te, vediamo passare il 5, e poi Artinghelli e Antiglia altrettanto vicini, per il momento dalla postazione centrale è tutto.